benvenuti in questo nuovo video adesso andremo super con la salita perché mi sono rotto di fare video in cui non parlo e c'è soltanto il drone che vola siamo con lui e questo qui è l'ultimo pezzo pianeggiante e tra un po inizia la salita e niente a dopo si moriremo a dopo ragazzi è un piccolo problema in realtà è un grande problema si è spacca tutta la bici quindi dobbiamo andare a fare il cambio bici e questa bici qui ha poi un altro giorno la porta a riparare e direi di muoverci perché il cielo non sembra molto bello quindi forse viene a piovere che vittà di merda abbiamo appena cambiato la bici più schifosa di prima sempre meglio speriamo che funzioni adesso cerchiamo di recuperare tutto arriviamo alla salita e appena arriviamo alla salita vi diciamo abbiamo appena finito la prima salita adesso c'è uno spiazzo è stata parecchio dura la prima salita non per molto e tra un po c'è una salita parecchio ripida molto più di quella che abbiamo fatto adesso quindi ci riposiamo adesso finché possiamo perché tra un po si fatica veramente la c'è un bel burrone adesso c'è di nuovo l'asfalto e poi inizia la salita e ci divertiamo ok raga siamo arrivati a metà della seconda salita e volevamo fare un volo col drone per vedere il paesaggio e lui è pronto vai vada e adesso vi facciamo vedere la visuale della fotocamera del drone abbiamo appena finito la salita parecchio ripida intanto c'è lui lì che c'è su qui che deve fare i video e io che devo tenere l'amica vabbè è a questo che servono gli amici e adesso è tutto pianeggiante quindi forse riprende la bici la riprende poi adesso c'è un pianura ma saranno 200 metri poi c'è c'è una discesa poi è un cane cavallo quello è immancabile l'amica 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 la l'amica 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 il l'amica 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 Allora da questo video è tutto adesso siamo arrivati a casa stiamo montando il video qui c'è lui che fa finta di farlo ma in realtà farò tutto io che ha fatto tutto in bici e chi ha camminato in realtà io il video alla fine lo farò io quindi e da questo video è tutto iscrivetevi lasciate like condividete con il vostro cane gatto pollo mucca adino tutti gli animali che avete anche i parenti e magari anche i parenti da questo video con il coronavirus è tutto ciao